15-17 febbraio, 85esima edizione della Fiera Agricola Geotecnica Italiana, ovviamente il teatro sarà il centro fiera di Montichiari, Ezio Giorgi il direttore. Quest'anno 85esima edizione, un po' di dati? Sì, allora quest'anno 85esima edizione e quindi praticamente siamo intorno quasi ai 100 anni se togliamo i periodi della seconda guerra mondiale. Allora i dati è il quartiere fielistico interamente occupato, 40.000 metri coperti, 10.000 metri dedicati interamente agli eventi zootecnici, oltre 500 tra espositori e allevatori presenti, per cui voglio dire una edizione in crescita rispetto al 2012 e di questi tempi è una bella notizia certamente. Il pubblico atteso è sui 40.000 visitatori nei tre giorni di manifestazione, l'inaugurazione si tratta il sabato mattina 16 alle ore 11 nel foyer dell'ingresso centrale, per cui sono attesi tutti gli allevatori e agricoltori e chi si occupa di questo settore, non soltanto del nostro territorio ma di tutto il nord Italia. Non poteva mancare sia la presentazione stampa ma sarà presente sicuramente anche all'inaugurazione l'assessore provinciale agricoltura Gianfranco Tomasoni. Sì, un appuntamento molto importante che dà il senso della vitalità della nostra economia, che dà il senso della vitalità del comparto zootecnico bresciano, ma non solo perché qua sono rappresentate, l'aspetto zootecnico è rappresentato a livello nazionale, a livello internazionale, però vengono a Brescia a fare questa manifestazione perché Brescia è la capitale della zootecnica in Italia e questo ci deve riempire di orgoglio, soprattutto in questo momento molto particolare, momento difficile dove l'agricoltura fortunatamente sta andando un po' in controtendenza e sta aiutando a risollevare le sorti della nostra economia. Il vice sindaco Rosa, oggi in rappresentanza del sindaco, a presentare questa edizione della fiera, 85esima edizione, giustamente ricordava 600 anni di appuntamenti con la zootecnica settimanali, quindi un appuntamento importante, soprattutto questa fiera. E come dicevo poc'anzi è il compendio di tutti i nostri mercati, abbiamo una tradizione di 600 anni di mercati settimanali, iniziati col commercio della lana, continuato nel tempo con i vari commerci e la fiera agricola zootecnica è l'insieme di tutte queste attività. In un momento difficile la fiera invece si presenta al massimo, al massimo gli espositori, al massimo i metri quadri coperti, al massimo le strutture agricole e gli animali presentati. Siamo orgogliosi di questo e quindi un ringraziamento particolarissimo innanzitutto al centro fiera per l'organizzazione, ma in modo particolare ai rappresentanti degli elevatori che anche quest'anno hanno creduto a Montichieri. Grazie a tutti.